Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili ci sono tre chilometri di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze e un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sulla A1 in direzione Bologna a causa dei lavori alle corsie di destra tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci con la chiusura dello svincolo di Firenze in Pruneta ci sono due chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Per traffico intenso code sempre in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e code in direzione Roma tra Aglio e Calenzano tra il Bivio per la 11 e Incisa Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!